C'è una faccia? Ciao, siamo gli vecini di Uradio! Ciao amici! Ciao a tutti! Noi siamo Bea e Tommy e siamo i conduttori del Lattiglio Lattiglio che è una nostra trasmissione di facciamo vedere, Uradio.org Per chi non sapesse che cos'è Uradio.org Uradio.org è la web radio universitaria degli studenti di Siena Sì, non potevi descriverla meglio Visto che noi siamo appunto un programma che sta sul pezzo e tutti quanti in questo momento stanno facendo questo video che si chiama Neck nomination Quello in cui la gente, no, avete presente si ubriaca e poi nomina la gente Ti nominano e te devi bere qualcosa alla goccia e rinominare a tua volta altre persone C'è un problema che a noi non ci ha nominato nessuno No No Qui ne abbiamo pensato Anzi, siamo stati ispirati Siamo stati Abbiamo avuto una bellissima fonte di ispirazione Un'altra radio nazionale di cui non faremo il nome Radio DJ E altri speaker di questa radio di cui non faremo il nome Il Triomedusa Hanno dato vita a una bellissima iniziativa con le canzoni di Neck questa volta Sì perché la Neck nomination può essere la nomination relativa al Neck cioè collo della bottiglia oppure la Neck nomination può essere la nomination relativa al Neck il cantante E qui adesso abbiamo Quindi che cosa hanno fatto questi di cui non vogliamo fare il nome Il Triomedusa E su questa radio nazionale di cui non faremo il nome Radio DJ Hanno deciso di cantare una canzone di questo artista Neck E poi di nominare altri speaker di altre radio per cantare una canzone sempre dello stesso artista Neck Noi abbiamo pensato perché non fare la stessa cosa fra le radio universitarie e quindi abbiamo preso Un ukulele Un ukulele E abbiamo deciso di cantare anche noi una canzone solo che visto che le Neck nomination sono già state fatte da diciamo canali più in alto di noi abbiamo deciso di cambiare l'artista e di fare una Rinomination Una Rinomination che non vuol dire una nomination due volte ma vuol dire una nomination con una canzone di Rino Gaetano Da quando sei la nata mia Da quando non ci sei tu Da quando la mamma ascoltano la mangio Ai, per via che mi manca sento Ci riprova Ai La mattina mi anzo tardi e il papo mi chiede già E mi affetto e la fantasmetto del biondo e il blu Ai, per via che mi manca sento La notte non va a parlare del canzone e i soldi miei Dari qualche tempo che sto per il DJ Ai, per via ma tu non ci sei E questo E questo sapore strano che ha il fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me Ai Maria non sei più con me E quando una volta insomma una canzone d'amor da Maria Salvador Poi Maria per te cante e i soldi miei e i soldi miei Questa era la nostra canzone e adesso le regole della rinomination Regola numero 1 Quando si viene nominati bisogna rifare un video con una canzone di Rino Gaetano Regola numero 2 Il video deve essere postato su Facebook entro 48 ore da adesso Regola numero 3 Chiunque venga nominato deve ricordarsi di nominare alla fine del video uno speaker della propria radio e un altro di un'altra web radio universitaria Perfetto Ora che abbiamo detto le regole andiamo con le nomination Questa è la prima di domini Bellissimo Nomination numero 1 Il nominato all'interno di U Radio è Nicola Karma Carmignani di Radical Pop Vai Karma mi raccomando Canta per noi Vediamo cosa riuscirai a fare La seconda nomination è la nomination estera invece e va a colpire Radio Echo di Pisa nella persona di Eleonora Anastasio Eleonora sei stata rinominata Fai del tuo meglio pure tu Queste sono le nostre nomination questa è la nostra sfida fate del vostro meglio Ciao Radio amici Ciao 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 Ciao